cari amiche e cari amici bianconeri ben trovati nuovamente qui sul canale secondo contenuto di giornata inevitabile perché l'argomento è molto interessante è attualissimo e allora trovo assolutamente importante fare un passaggio su quella che è la situazione uefa superlega perché attraverso un articolo di calcio di finanza ora capiremo di che cosa si tratta beh mi viene abbastanza da sorridere pensando alla supponenza all'arroganza invece manifestata soltanto fino a qualche mese fa dai vertici uefa soprattutto ma anche figici ma anche fifa prima di sviluppare il tutto mi raccomando come sempre iscrivetevi al mio canale youtube azionate la campanella notifica e un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata e cosa gradita sperando che questa possa essere stata di vostro gradimento allora prima di cominciare velocissimo proprio un passaggio velocissimo lo faccio sul contenuto del primo pomeriggio a chi mi chiede di parlare della situazione di vittoria della mia squadra beh io credo che non bisogna essere dei geni assoluti mi sembra che di averlo spiegato poi a grandi linee molto velocemente la juventus per far fronte alla propria situazione di vittoria ha una proprietà solida alle spalle che ha deciso di andare in tasca propria mettere mani per risanare la questione oltre ad una operatività sul campo degli ottimi manna giuntoli dello stesso scanemino e ferrero che stanno attraverso una riduzione dei costi risanando la posizione debitoria delle club questo è abbastanza lampante l'avevo detto ma lo ribadisco per i più ottusi non è una guerra tra juve e inter è un portare alla luce del sole una situazione gravissima che sta investendo la finanza le casse la finanza bianconera nera azzurra chiedo scusa comunque parliamo d'altro adesso perché è importante parlare della reazione alla comunicato della superlega della uefa e vi leggo l'articolo di calcio e finanza la mossa allora la uefa chiede alla corte di modificare il comunicato la mossa se confermata avrebbe un impatto piuttosto importante a livello mediatico con la uefa che rischierebbe di mettersi in una posizione di grande debolezza la uefa non ha preso affatto bene la sentenza della corte di giustizia dell'unione europea che ha riconosciuto l'abuso di posizione dominante da parte della federcalcio europea e della fifa così l'organo di governo del calcio nel vecchio continente ha chiesto alla corte stessa di correggere il comunicato stampa con il quale è stata data la notizia diffusa appunto nel mondo lo scorso giovedì 21 dicembre lo rivela l'autorevole quotidiano inglese the times spiegando come a nion stiano cercando di reagire a quella che potrebbe essere una tempesta perfetta quella di chiedere alla corte di correggersi tuttavia è una mossa che qualora venisse confermata avrebbe un impatto clamoroso dal punto di vista meramente mediatico io già il comunicato fatto dalla uefa l'ho visto come una posizione di grande debolezza nei confronti del mondo del calcio in generale chiedendo di non essere abbandonati comunque in particolare la uefa avrebbe chiesto di redigere un comunicato più preciso e fedele alla sentenza attenuando i toni sull'illegalità delle posizioni della stessa uefa e della fifa pur comprendendo che i comunicati stampa non vincolano la corte essi sono il punto focale dell'attenzione dei media in casi di alto profilo inevitabile impatto tra l'altro sulla percezione e sulla reputazione della uefa data l'estrema gravità dell'accusa di abuso di posizione dominante sarebbe stata la posizione della uefa inoltre l'organo di governo del calcio europeo avrebbe respinto l'affermazione secondo cui la fifa e la uefa stanno abusando di una posizione dominante sostenendo che la sentenza stessa non contiene alcuna contestata constatazione di violazione quest'ultimo punto tuttavia non trova reale riscontro nella lunga e articolata sentenza al punto 35 si legge infatti che in terzo luogo ritiene che la fifa e la uefa abbiano detenuto per lungo tempo un monopolio economico e commerciale e quindi una posizione dominante sul mercato in questione così come al 36 a tale proposito osserva innanzitutto che la posizione dominante di cui godono fifa uefa non riguarda solo le imprese che potrebbero voler competere con loro organizzando altre competizioni calcistiche internazionali ma anche attraverso le federazioni calcistiche nazionali che ne fanno parte tutti gli altri soggetti interessati al calcio come le squadre di calcio professionistiche e o i giocatori stesso discorso infine per il punto 230 dove si tratta il tema della vendita di diritti televisivi anche quello possibile oggetto di abuso di posizione dominante da parte della uefa ma al di là delle precisazioni è chiaro che l'organismo voglia attenuare la portata mediatica della sconfitta subita davanti alla corte da qui la richiesta di intervenire sul comunicato con il rischio però che la uefa si esponga ad una posizione di debolezza e ottenga il risultato assolutamente contrario bene quando io vi ho raccontato e l'ho ribadito ieri sera ospita colpo gobo su radio bianconera dal ottimo luigi schifo che c'è stata una veramente una grande disinformazione il giorno seguente alla emissione della sentenza da parte della cg cg ue della corte giustizia dell'unione europea perché in quel caso io credo che una comunicazione stampa corretta una diciamo una notizia corretta il giorno seguente sarebbe stata quella di evidenziare la sconfitta della uefa dinnanzi alla cg ue perché la uefa che fin lì aveva tenuto un atteggiamento supponente arrogante addirittura da despota in grado di dettare anche le regolamenti e le leggi e le regole nei confronti di chi non si fosse attenuto al rispetto delle competizioni organizzate da fifa uefa con sanzioni e stromissioni addirittura dai campionati nazionali beh è evidente che trattasi di una mera sconfitta poi la situazione si sta ulteriormente aggravando qualora sarà fosse confermato quello che scrive il times ovvero che la uefa starebbe pensando di chiedere alla corte un'emissione di un comunicato che vada ad alleggerire i toni per diciamo evitare di macchiare in maniera indelebile l'immagine di uefa fifa in quanto detentori di un abuso di potere come giustamente scrive l'articolo di calcio di finanza qualora questo fosse verificato e si arrivasse alla rifiesta da parte della uefa di in tal senso è evidente che la posizione della uefa sarebbe ancora maggiormente indebolita rispetto a quanto già non lo sia a seguito del comunicato stesso della uefa che chiede ai club di non abbandonare la lega col massimo impegno di garantire sempre la maggiore efficienza sia qualitativa che economica è un segno credo evidente di contrastare quello che oggi la corte ha sancito ovvero la possibilità della nascita di una competizione che vada proprio come anche dice il tempito il termine stesso in competizione con quelle che sono le competizioni scusate la ripetizione di parole organizzate dalla uefa e quindi una superlega che andrebbe chiaramente a contrastare l'egemonia attuale della champions league se si verificherà tutto questo lo vedremo soltanto più avanti come ho già avuto modo di dire i club che ci sono così immediatamente indirizzati verso le missioni di comunicati di presa di distanza dalla superlega credo che faccia parte un pochino di un clima di ancora generale incertezza ma via via che le situazioni sia pianerà via via che il seo di a 22 la società organizzatrice appunto di questa superlega avrà avuto modo di colloquiare e di stabilire con i dirigenti di tutti i principali top club europei e non solo probabilmente avremo un quadro più chiaro le società stesse avranno un quadro più chiaro e chissà forse in quel momento lì quando tutto sarà più chiaro beh ci saranno società che faranno un dietro front e così come si iscrissero all'atto iniziale al testamento chiamiamolo così della nascita della superlega salvo poi fare un grande dietro front chissà che non ne facciano un altro e tornano a sposare il progetto della superlega questo però è soltanto un qualcosa che vedremo più avanti quello che è certo è che la uefa ha subito una sconfitta cocente a seguito della sentenza emessa appunto dalla corte di giustizia dell'unione europea e ora è l'emosina la richiesta di un sembrerebbe l'emosinare la richiesta di un comunicato un pochino meno duro nei confronti di quello che è stato questo abuso di potere in questi anni esercitato da uefa e fifa nei confronti del calcio in generale ditemi la vostra ci sentiamo presto come sempre fino alla fine forza juve ciao